In medicina estetica i laser hanno acquisito un'importanza sempre maggiore con il passare degli anni. I primi laser usati in medicina estetica erano in realtà laser che avevano come obiettivo quello di andare a trattare e rimuovere le lesioni cutanee, soprattutto anzi esclusivamente di natura benigna, quali le verruche, i condilomi, le cheratosi seborroiche, i fibromini cutanei penduli eccetera, cioè tutte quelle lesioni che non richiedevano esame istologico successivo. Il primo strumento laser per la medicina estetica più specifico e meno dedicato alla patologia sono stati sicuramente i laser per conseguire l'epilazione permanente che hanno conosciuto un'importantissima evoluzione e tutt'oggi rappresentano il tipo di laser più utilizzato in medicina estetica perché l'epilazione permanente è il trattamento sicuramente più richiesto e più ambito dai pazienti, sia maschi che femmine. Uno dei laser che al momento una tipologia di laser che al momento va molto di moda è il laser per la rimozione dei tatuaggi. Questi laser sono laser che devono essere a tecnologia Q-switched, cioè vuol dire che l'impulso di luce che emanano, perché quando si parla di laser è bene ricordarsi che si tratta sempre e comunque di un raggio di luce, questa luce dicevo riconosce come bersaglio il pigmento che il tatuatore ha depositato a livello del derma al momento che il tatuaggio è stato fatto. Che cosa fanno questi laser? Praticamente vanno a denaturare questo pigmento e si attiva una reazione infiammatoria da parte del nostro organismo per cui delle cellule, fondamentalmente i macrofagi, vanno a rimangiare questo pigmento che piano piano viene riassorbito e sparisce. È opportuno ricordare che occorrono alcune sedute opportunamente distanziate nel tempo, solitamente nel mio studio le eseguo ogni quattro settimane. Il numero delle sedute varia chiaramente a seconda della tipologia di tatuaggio. Alcuni tatuaggi possono scomparire con solo due o tre sedute, altri possono richiederne anche ben più di dieci. Sono procedure che non richiedono anestesia, sono leggermente fastidiosi ma assolutamente sopportabili e non comportano accorgimenti particolari nel post trattamento, se non per la prima settimana evitare di esporsi direttamente la luce solare intensa.